Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos. Questa sera, argomento direi scottante, parleremo della TAV. Anche noi ci occuperemo di questo argomento ancora così dibattuto, tra l'altro una realtà che qui vicino a Torino ci colpisce geograficamente in maniera più vicina. Non voglio rubare tanto tempo nella presentazione perché vorrei invece far parlare i nostri ospiti, vorrei far parlare, dicevo, riprendere questo dibattito su un'opera di cui tanti ne parlano come di un'opera necessaria e inevitabile per lo sviluppo futuro e per altri invece un'opera che può comportare solo sprechi e tutto sommato tradursi solo in un operato inutile. Allora, vediamo che cosa possiamo, come ne possiamo discutere questa sera insieme ai nostri ospiti. Voglio salutare Nilo Durbiano, che è sindaco di Venaus. Buonasera. E voglio salutare Paolo Foglietta, che lavora presso l'Osservatorio di Torino-Lione e che ha scritto un libro a proposito proprio l'opera stessa sull'alta velocità che poi vedremo questa sera e quindi intorno a questo libro e per come è stato trattato lo sviluppo, costruiremo il nostro dibattito. Intanto vi ringrazio per questo tipo di trasmissioni che consentono di dare alcune informazioni che in vent'anni di discussione sulla TAV i media spesso hanno trascurato, quindi onore al merito vostro. Allora, bisogna intanto dire che la Torino-Lione esiste già, è una linea farroviaria internazionale che ha tratte di velocità a 160 km orari, a doppio binario, è stata ultimata negli anni 80 ed è la linea che viene attualmente chiamata la linea cosiddetta storica. Che succede? All'inizio degli anni 90 viene proposta l'alta velocità sulla Torino-Lione. Lo vuole l'Europa, lo vogliono lo Stato italiano, lo Stato francese. Le amministrazioni locali che hanno come loro mandato anche la gestione, la valorizzazione e la cura e manutenzione del territorio, ma soprattutto del bene pubblico, della cosa pubblica, hanno iniziato partendo non da preconcetti o ideologie varie, semplicemente andando a leggere i documenti ufficiali, le relazioni e abbiamo scoperto che la Torino-Lione per quanto riguarda il traffico passeggeri nel 2001 vedeva come collegamento Milano-Torino-Chamberi-Lion-Parigi otto coppie di treni, otto treni in andata e otto treni a ritorno ogni giorno. Dall'anno scorso per mancanza di passeggeri, queste coppie di treni sono diventate tre, siamo passati da 16 a 6 treni. Per mancanza di passeggeri, questo è il collegamento che viene effettuato attualmente con il TGV. Andiamo alle merci, perché poi questo è un altro aspetto, nell'immaginario collettivo la Torino-Lione è l'alta velocità, non è l'alta velocità, la Torino-Lione attraverso il traforo del Frejus è una linea che da domani mattina è pronta a trasportare 20 milioni di tonnellate di merci, ha avuto una punta massima nella sua storia di circa 8 milioni di tonnellate in un anno, lo scorso anno è stata all'incirca attorno ai 4 milioni di tonnellate, questi numeri possono creare confusione, basta dire che la Torino-Lione oggi così com'è può trasportare 4-5 volte le merci che oggi trasporta, senza nessun intervento, noi non vogliamo non fare nessun intervento, noi vogliamo fare opere pubbliche utili ai cittadini innanzitutto e opere pubbliche utili all'Europa e all'Italia. Io avrei qualche domanda da farle, però preferisco adesso sentire la controparte, sentiamo Foglietta e poi a quel punto intervengo in base a quello che dite. Io ho letto, mi scusi, questo libro che è Città, che lei ha scritto insieme a Stefano Esposito e che ha una presentazione di Bersani, ho letto effettivamente molto tecnico, quindi interessantissimo, c'è un'altra spiegazione, sia su traffico merci che su traffico passeggerico? Io ritengo utile pensare che non esistono le verità assolute, soprattutto quando parliamo su economie e su grandi investimenti e quindi questa è presentata come un'opinione e un ragionamento, che però è complessivamente diverso e si basa su dati diversi. Partiamo da un primo dato, il primo dato è che l'Italia nel momento che si relaziona con il resto dell'Europa è un cattino, la produzione dell'85% del sistema italiano avviene nella pianura padana e la relazione deve per forza arrivare passando attraverso le Alpi, quindi le relazioni economiche, ma anche quelle che sono le relazioni culturali, quelle che sono le relazioni di tutti i livelli sociali che avvengono all'interno dell'Europa devono per forza passare attraverso le Alpi. Quanto vale questo sistema? Questo sistema dell'interscambio dell'Europa con il resto dell'Europa, quindi i 44 paesi che sono raggiungibili con la ferrovia, vale oggi 450 miliardi di euro all'anno, valore 2011, recuperato quella che era stata la crisi del 2008-2009 in due anni, quindi siamo tornati ai valori del 2007. Su questo quanto vale il settore che è coperto Ovest, quindi quello che è coperto, chiamiamolo dall'infrastruttura di connessione, vale circa il 42%, quindi vale in questo momento circa 230 miliardi di euro. 230 miliardi di euro è tantissimo, quindi non si può dire come qualcuno dice che non esiste un mercato economico. L'interscambio economico poi è fatto non di beni immateriali, è fatto, leggo i dati ufficiali dell'Istituto per il commercio estero del 2011, articoli di abbigliamento, macchine per impieghi speciali, autoveicoli, automotive, articoli in materia plastica, prodotti per la siderurgia e così via. Quindi stiamo parlando di merci pesanti che devono in qualche misura viaggiare e che a oggi viaggiano con i volumi assolutamente rilevanti, 46 milioni di tonnellate all'anno, esclusivamente su autostrada. Solo su quest'asse. La cosa che è assurda e su questo vorrei che rientrasse nei ragionamenti che qualche volta si possono fare senza capigliarsi e basta. Se io vado a vedere cosa succede sugli altri tre assi importanti, l'asse del Brennero, quello che ha messo in relazione, io scopro che il 33% non è ancora stato fatto nessun investimento e in previsione la realizzazione di una ferrovia e con una nuova tunnel di 57 km, analogo a quello che prevediamo, oggi il 33% viaggia su ferrovia. Un terzo di tutti i trasporti delle merci in direzione dell'Austria e della Germania viaggia su ferrovia. Sulla Svizzera, e chiudo con questo, ne sta viaggiando il 67%. La politica svizzera fa in modo che due terzi passano su quest'asse e finisco solo con questo, ne passa meno del 10%, ma allora il problema è che non c'è il mercato oppure non c'è l'infrastruttura. Allora facciamo una cosa, vi faccio una domanda a cui rispondiamo dopo la pubblicità, ma la faccio adesso. A tutte e due è secca data questa premessa, quindi secondo lei esiste davvero uno sviluppo dei paesi per esempio dell'est, soprattutto quelli dell'est verso il quale non possiamo non andare, secondo lei non è grave non entrare in questo circuito, proprio dovendo rispondere in maniera molto sintetica, però a questo punto dopo la pubblicità. Seconda parte di Antropos è dedicato alla TAV, questa sera io sono con i miei ospiti che sto cercando di tenere sotto interrogatorio stretto per riuscire a parlare il più possibile di questo argomento. Allora dicevo, domanda secca, diciamo, a posteriore di tutto quello che è stato detto. Dal punto di vista economico chiedo a lei, Durbiano, non costruire la TAV, non finire l'opera, vuol dire a questo punto non entrare a far parte di questo circuito economico di merci, di traffico, diretto soprattutto verso i paesi dell'est che sono quelli che stanno promettendo un futuro migliore. Questo non danneggerebbe l'Italia? Assolutamente no, nel senso che sono altre le opere per avere un reale sviluppo della rotaia. Ad esempio, semplicemente non inventare nulla, fare quello che hanno fatto gli altri stati europei tipo Germania e tipo la Francia, che sono l'avanguardia nel trasporto ferroviario, cioè realizzare ad esempio le circonvolazioni metropolitane. È inutile realizzare un tunnel che faccia risparmiare tre quarti d'ora a un treno o ad una merce e poi quando si arriva a Torino, dobbiamo fermare questo treno magari per un'ora o per due o farlo passare non in sicurezza attraverso l'area metropolitana. Quindi i francesi hanno realizzato le cosiddette le circonvolazioni metropolitane. Noi da tempo prima risolviamo il problema del nodo di Torino, poi vedremo. Allora chiedo a Foglietta, perché questo è un argomento molto sviluppato nel libro di cui abbiamo parlato. Rispetto al costo dell'opera, a noi conviene entrare in questo circuito di merci, di trasporti, di traffico commerciale o il costo dell'opera potrebbe essere tanto più grande rispetto al beneficio che ne potremmo ottenere. Allora il costo dell'opera è naturalmente un costo elevato, i benefici sono secondo noi ancora più elevati, perché facciamo esempi sulle analogie, gli svizzeri hanno speso e investito molto più di noi per quanto riguardava la realizzazione dei due tunnel, gli austriaci finanziano in modo assolutamente rilevante la realizzazione del Brennero. Tutti gli altri paesi più evoluti hanno deciso che era essenziale fare passare le merci su ferrovie. Hanno deciso di collegarsi al network, di perseguire l'obiettivo delle autostrade ferroviarie, anche per un obiettivo di carattere non solo economico, ma anche di carattere ambientale. Certo, questo è l'altro aspetto. Oggi costa molto di meno viaggiare con il treno e costerà sempre di meno rispetto a quello che sarà l'aumento energetico che è legato al costo del petrolio. Senta, c'è modo, perché ho visto che ci sono tanti studi sul suo libro, vedo le tabelle che sono proiettate, questo è il valore del costo generale, stiamo parlando della sezione di attraversamento, della prima tratta, quindi quella che va da Saint-Jean de Morien fino ad arrivare alla stazione di Susa. Questo intervento vale 8.200 milioni, quindi 8,2 miliardi di euro, di questo il finanziamento italiano sarà di circa 2,9, il resto è il finanziamento francese e la quota che è stata fino adesso ipotizzata. Il recente incontro che abbiamo avuto in Unione Europea e il documento che sta licenziando l'Unione Europea prevede il finanziamento 40-30-20, 40 per le tratte internazionali come quelle che diciamo, 30 per le tratte di aduzione e 20 per le tratte nazionali. Durata dei lavori, perché noi ragioniamo in questi termini ma poniamo, e non lo è, il caso in cui io e Paolo Foglietta siamo d'accordo e siamo noi a decidere o meno sulla TAV, non vorrei esserlo, comunque sia. Partiamo domani mattina con il tunnel della Maddalena e ci vogliono 7 anni per realizzarlo, questa è la scansione temporale del programma lavori. Siamo nel 2012, finiamo nel 2019 e noi sappiamo che non ci sarà nessuno in topo. Il giorno dopo partiamo immediatamente col tunnel di 60 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Susa. Bene, 30 anni con il programma dei lavori, finiamo nel 2049. Ora, questo aspetto è un aspetto che deve essere considerato, un altro aspetto deve essere considerato tipo la stazione internazionale di Susa. Io non ho ancora capito e mi sono veramente sforzato che cosa, quale sia la mente che abbia concepito questa cosa? Per portare i turisti, i turisti della pianura padana li portiamo a Susa, li facciamo scendere per prendere un autobus per andare a sciare al Sestier piuttosto che a Bardonecchia? Non mi sembra una gran conquista visto che da Milano possono andare direttamente col treno a Bardonecchia o scendere a Ulx. La stessa cosa vale per i turisti che da Parigi, Chambéry, Lyon decidessero di venire a sciare in Alta Valle. Abbiamo una linea che serve all'Alta Valle direttamente, si arriva a Bardonecchia, si può scendere a Ulx dove si vuole. Cosa li facciamo a venire fino a Susa, poi prendono un pullman? Le darei la replica e tenete conto che poi vorrei anche affrontare il problema dell'inquinamento, un altro argomento importante. Allora, continuiamo a considerare esistente una linea ferroviaria che il mercato ha già dichiarato morta. Il fatto oggi che passi sempre meno merci, 3,9 milioni di tonnellate, quando pochi anni fa ne passavano 11, e la fotografia che ormai quando sono state realizzate le carrozzabili le mulattiere vengono chiuse. Nella realtà è il tunnel più alto, è il tunnel più stretto come ingombro. La velocità commerciale all'interno del tunnel è di 12 km all'ora, nonostante il fatto che siano state fatte quasi 100 milioni di lavori per il ribasso, il problema è che le sagome standard, in questo momento ferroviarie, quelle che sono dell'AF o l'EPS 80 in gergo, non riescono, si incastrano nei due sensi. Quindi ci troviamo con un oggetto che ormai è datato 1871 e come hanno deciso gli svizzeri per primi e che hanno deciso quelli del Brennero, ha finito il suo ciclo di vita e deve essere chiuso. Mi domando perché sono state spese milioni di euro per adeguare la sagoma limite, la sezione del tunnel del Freius, hanno finito i lavori l'estate scorsa, hanno finito e con quella sezione si può circolare in tutto il nord Italia, in tutta Europa con quella sezione, perché ricordo l'Europa sarebbe necessaria una cartina, ma si trova sui siti specializzati, c'è una bellissima cartina che ho visto ieri sera ancora. Noi abbiamo Francia, Spagna e Pianura Padana che hanno le ferrovie con le stesse identiche caratteristiche del tunnel del Freius attuale, quello del 1860 che diceva l'architetto Foglietta. Poi abbiamo un'altra parte di Europa, quella che fa riferimento diciamo all'impero austro-ungarico, grossomodo, Germania, Austria, Germania, Austria, Ungria, dove le linee sono più alte, ma noi dobbiamo considerare che le merci oggi circolano in tutta Europa con carri, con quelle caratteristiche, con quelle sezioni e quindi anche i container, le casse mobili e passano tranquillamente su questa linea. Aggiungo un dato, si parla di alta velocità anche per le merci, in Europa non esistono carri ferroviari che possono andare a una velocità superiore ai 150 km orari, non esistono. La velocità e poi il rapporto peso-trasportato-velocità si incrementa in modo esponenziale, quindi la velocità ideale massima per il trasporto delle merci è 120 km orari. Quella di progetto della nuova linea Torino-Lione. Ed è la linea attuale consente queste velocità, con pochissimi ritocchi. Allora, chiedo scusa, la linea attuale oggi ha una velocità commerciale che è nell'ordine dei 30 km orari. Dopodiché ci troviamo al passaggio del tunnel con le sagome che ha 12 km orari a senso unico alternato, perché come diceva giustamente, la cartina ce l'ho qui dentro, ma la cartina è un atto di denuncia totale della non riformabilità del Freus, perché dice che in questo momento l'ingombro, l'interasse che esiste tra i due binari è di 341 cm. Questo non è stato toccato ed è il più basso che esiste. Se io vado su un C45, ovvero su quello che è lo standard del container anale, ho bisogno di 60 cm in più e non si può andare dai due lati con lo scalpello ad allargare un tunnel fatto del 1871. E questo lo sanno anche i bambini. Quindi si abbia il coraggio di dire che la scelta del Corridoio 5 è una scelta autostradale, è una scelta legittima, dopodiché vedremo quali sono le questioni. Ma il tunnel del Freus, nessuna soluzione oggi è possibile con la linea storica. Faccio solo un ultimo esempio e poi mi taccio. Oggi andare a Parigi, naturalmente si è sempre passato da Torino e si è sempre passato da Freus. Oggi le linee commerciali, quelle di trasporto merci, passano per il Loisberg. Perché? Perché è un tunnel basso, perché non c'è pendenza, perché si riesce a portare molte più merci, perché non ci sono limiti di ingombro. Cosa si traduce in termini di costi? Che oggi una tonnellata di merci mandate da Torino, passando per il Loisberg, costa il 50% in meno di una tonnellata passante, passa per il Freus. Quindi la preannunciata puntata sulla TAV è andata in onda questa prima parte. Come avrete visto, fra l'architetto Foyetta e il sindaco Durbiano, posizioni diverse, posizioni però dialoganti, un qualche cosa che fa molto bene alla politica e soprattutto alle nostre amministrazioni. Naturalmente il tema della TAV è il frutto di segnalazioni giunte da voi, gentili telespettatori, per cui voglio ancora ricordarvi la mail della nostra trasmissione che è antropos-quartarete.tv, così come ricordarvi che la nostra trasmissione si vede il martedì e il mercoledì sera alle ore 20 su Quarta Rete, ma anche in streaming su www.quartarete.tv è possibile vederla in tutta Italia. Anche oggi per voi ho selezionato una serie di articoli presi dalla stampa nazionale. La prima è legata ad un importantissimo personaggio, premio Nobel per la medicina, James Dewey Watson, che è stato ospite del Centro Tumori di Candiolo, che ha tenuto una lezione molto importante al Centro Tumori di Candiolo, in cui praticamente ha parlato delle scoperte della medicina, ma soprattutto delle nuove battaglie fondamentali che la medicina dovrà compiere contro la cura del cancro, una cura che dovrà essere sempre più centrata nella specificità genetica delle patologie che la riconoscono. Sono 25.000 il numero presunto dei nostri geni, il 98,7% corrisponde a quelle della scimmia. E' naturalmente importante il contributo che questo scienziato ha saputo dare insieme a Crick per quanto riguarda l'identificazione della catena del DNA. Un'altra notizia che vi voglio invece segnalare riguarda una vicenda molto preoccupante, sia da un punto di vista industriale che da un punto di vista di salute pubblica, riguarda la vicenda dell'Ilva di Taranto. Voi sapete che all'Ilva di Taranto vi è un'ipotesi di chiusura degli impianti, di spegnimento degli altoformi per la produzione dell'acciaio, un qualche cosa che creerebbe una catena di conseguenze molto importanti anche per altri stabilimenti che sono collegati allo stabilimento di Taranto. Stiamo parlando per esempio nella Liguria, strutture che possono servire per la produzione del manufatto e quindi che sono collegate alla produzione. Sono circa 20.000 i posti di lavoro che potrebbero andare in cassa integrazione se si procedesse a questo spegnimento, ma d'altra parte l'incidenza delle patologie ambientali è tale per cui il GIP di Taranto ha ordinato il sequestro degli impianti. Buonasera, bentornati ad Antropos. Riprendiamo questa sera la seconda parte della puntata che abbiamo dedicato alla TAV. Abbiamo parlato con i nostri ospiti che io voglio salutare. Sono Nilo Durbano, sindaco di Venaus e Paolo Foglietta, il grande tecnico che collabora per l'Osservatorio Torino-Lione. Buonasera a tutti e due, grazie per aver gestito questo incontro in due puntate perché l'argomento è molto complesso. Ieri sera abbiamo trattato l'aspetto economico e dei costi che riguarda questa grande opera. Questa sera tratteremo invece le preoccupazioni che riguardano l'inquinamento, la sicurezza di merci e persone, le rivolte, la possibilità di infiltrazioni mafiose e tutto ciò che può riguardare questa grande opera. Siamo contrari a questa proposta, a questo progetto di alta velocità in Valle di Susa e veniamo così tacciati di opporci allo sviluppo del trasporto su rotaia. È l'esatto contrario. Noi, opponendoci a questo tipo di investimento, chiediamo che vengano fatti investimenti a favore del trasporto, innanzitutto per i pendolari e poi soprattutto per consentire un reale trasporto delle merci. Nel senso che noi non vogliamo che la Torino-Lione diventi un appendice ferroviario del trasporto merci fatto su gomma sul resto del paese. No, noi vogliamo che non la Torino-Lione, l'Italia abbia una politica di trasporto su rotaia e degli investimenti del trasporto su rotaia a sfavore del trasporto su gomma. Paolo Foglietta Dove esistono infrastrutture su rotaia si usano pesantemente quelle su rotaia, quindi io sono d'accordo con Durbiano una volta tanto e dico prima facciamo l'infrastruttura e allora le merci passeranno su rotaia. Ma ritorno a quello che era stata la sua domanda inizialmente. Allora, io ritengo che i cantieri, nessun cantiere escevolo di creare problemi. Allora, i cantieri creeranno dei problemi, però bisogna sempre ragionare sul termine dell'analogia. Primo, io ritengo che la questione delle rocce amiantifere sia sempre stata una sola, un idone, nel senso che le rocce amiantifere in montagna sono sempre esistite. Nelle valli di Lancia noi abbiamo Balangero, Val di Susa, Ulza, dove il problema è sempre stato affrontato. Tutte le volte che si fa una fondazione di una casa su roccia verde, si fa la verifica e dopodiché in genere si procede con tutti i sistemi che sono stati usati. Ricordo che le normative per quanto riguarda uno scavo in galleria, in roccia amiantifera, sono delle normative molto stringenti, le analoghe a quelle che sono state utilizzate per l'Eushberg, dove nell'Eushberg stessa caratteristica hanno trovato 3,5 km di rocce amiantifera. In genere è stato usato, me lo consentite in qualche misura, come un auspauracchio. Quando uno è contrario a una cosa, cosa è di meglio per creare un rafforzamento del movimento, di girare sulle paure che si radicano meglio sulla gente? Chiudo ancora con una battuta. Nessuno ha mai detto che fino all'anno scorso è stata aperta la cava di Caprie. La cava di Caprie è una cava di materiale amiantifero che è stato scavato 80.000 tonnellate all'anno con la dinamite e quindi le fibre che si disperdevano con la dinamite di una cava amiantifera erano meno pericolose di quelle che invece vengono con tutti gli accorgimenti presi in questo momento dal tubo. Quindi i problemi esistono, possono essere gestiti e devo dire la normativa. E il rischio geologico esiste davvero? Il rischio geologico sull'acqua esiste tutte le volte che noi affrontiamo un'opera, ma va gestito nei termini che è stato fatto benissimo sul Gottardo che ha finito senza nessuna perdita di risorse, di quello che è stato fatto dell'Eushberg. Quindi esistono tecnologie, capacità e conoscenze per gestire al meglio anche il rischio delle acque e delle farbe. Ci sono poi garanzie che questi lavori vengano portati avanti con questa attenzione, cioè noi ultimamente abbiamo vissuto, adesso bisogna ammetterlo, nell'immaginario collettivo restano le immagini di tragedie che abbiamo vissuto un anno fa, due anni fa, tre anni fa. No, la sicurezza che poi questi lavori vengano fatti con quella cortezza. Io vorrei sfatare questa cosa. Prima di tutto ci troviamo davanti a un appalto che sarà un appalto europeo, tra l'altro di una società italo-francese partecipata direttamente dalle due governi dell'Unione Europea. Sotto un occhio del ciclone. Quindi sotto la lente di ingrandimento di tutti i soggetti. E poi vorrei ricordare che le tecnologie italiane sono invidiate in tutto il mondo. Sono stato recentemente a vedere la chiusura dell'opera del Gottardo che è 57 km di tunnel conclusi. Mi diceva l'amministratore delegato della società che l'ha gestito, che chi ha vinto, c'erano tre società che hanno fatto la gara per realizzare questa parte. La società italiana è stata quella più efficiente nella realizzazione dell'opera. La Galleria del Monte Ceneri, la più complicata, l'ha vinta la società condotte di Roma. Quindi le nostre imprese stanno realizzando questo tipo di tunnel dappertutto. E' vero, la nostra professionalità non si può discutere. No, questo è vero. Poi sulla vittoria delle gare a volte, non parlo in questi casi, ma insomma non è sempre certezza di grandi competenze. Va costruita con tutte le caratteristiche, con tutte le garanzie e sotto la lente di ingrandimento di tutti. Osservo che per quanto riguarda il rischio idrogeologico, noi non dobbiamo scomodare molti paesi europei. Basta andare nel Mugello, vedere che cosa è successo. Basterebbe fare una gita in Toscana, vedere il disastro ambientale. Ci sono i comuni che hanno gli acquedotti serviti con le autobotti ancora oggi, per quanto riguarda semplicemente il taglio delle falde acquifere. Per quanto riguarda il rischio amianto, io mi domando se coloro che ritengono che non ci sia questo rischio sono disposti a prendere residenza nella piana di San Giuliano, ad esempio, dove dovrebbe uscire lo svincolo, dovrebbe uscire il tunnel di base. Perché non sono Inotav o qualcun altro o qualche invasato che dicono queste cose. La relazione al progetto del tunnel di base cita che ci sarà un sensibile aumento delle malattie, soprattutto delle vie respiratorie. Se c'è qualche volontario, se fossero anche solo dieci morti, io faccio la domanda se c'è tra di noi qualche volontario ad essere uno di questi dieci. Io sono un amministratore e devo tutelare i miei cittadini. Certo, per cercare di capire come adesso, cercavo di capire anche da lui, appunto, contrabattevo. Ma però, come si diceva, queste opere di bonifiche oggi vengono fatte effettivamente secondo dei criteri di una normativa europea che garantisce al massimo. Tant'è che effettivamente l'amianto ancora è dappertutto, vengono fatte, vengono rimosse anche in altre situazioni, vengono rimosse queste sostanze. Il problema è vero, io a lui facevo presente gli stessi disastri di cui lei parlava, però è anche vero che stiamo parlando di grandi errori del passato, che noi paghiamo oggi per una mentalità che è cambiata e per un progresso tecnologico che obiettivamente è difficile bloccare. La relazione al progetto, che comprende tutte queste precauzioni, se vogliamo, con l'uso e l'abuso, no, con l'uso, l'utilizzo delle migliori tecnologie, dice che, espressamente, cito testualmente, è previsto un sensibile aumento delle malattie alle vie respiratorie. Ma questo lo dicono referti medici? No, 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 la relazione al progetto. E aggiungo che in conferenza dei servizi, l'ASL torinese, ha presentato delle osservazioni alle quali probabilmente ad oggi non ci sono risposte ancora esaustite. Bene, eccoci giunti alla seconda parte di Antropos, che è dedicata anche questa sera alla TAV. Io avevo giurato di dare la replica a Paolo Foglietta, che sta cercando un dato, mi aveva chiesto tempo in realtà, vado a memoria, vado a memoria, allora, no, allora, questa è una delle storie che tra l'altro racconto nel libro. Premessa, no, scusate, stavamo parlando della possibilità di rischi della salute. Effetti sulla salute legati al cantiere. L'ho letto infatti su questo libro. Allora, su questo io racconto una storia che non è una storia proprio edificante, ovvero, c'è stato nell'analisi di valutazione di impatto ambientale un errore della modellistica che ha prodotto, rispetto ai valori che erano stati attribuiti al cantiere, un effetto che era cento volte quelli reali. Quindi vuol dire che veniva definito un carico cumulativo legato a pochi mezzi, i mezzi d'opera, perché ricordo la talpa lavora di energie elettriche, i nostri trasportatori sono elettriche, quindi non producono né NOx né producono in questo momento polveri sottili, è stato attribuito un valore che era un valore assurdo. Ce ne siamo accorti, abbiamo segnalato che questo valore, subito, appena ho scritto lo studio, era sbagliato, nel senso che quello che veniva prodotto da cento veicoli nel cantiere era superiore a quello che viene prodotto sulla tangenziale di Torerino, dove passano 240 mila veicoli, quindi c'era un errore proprio... Eclatante. Eclatante. Questo errore che è stato adesso corretto nell'ultima relazione della valutazione di impatto ambientale che è stata comunicata, non può di nuovo essere tirato fuori, perché sono errori... Cioè è rimasto a far fede rispetto a... Resta questo che era un errore dichiarato di cui giustamente i Talfair, LTF devono fare pubblica ammenda e venire col capo cosperso di cenere, ma il valore reale su cui è giusto che si confronti è un centesimo di quello, quindi siamo su dei valori che sono un microgrammo per metro cubo d'aria quando la soglia di attenzione dell'Unione Europea è per esempio sugli NOx o gli NO2 di 40, quindi siamo un quarantesimo della soglia di attenzione, non si può dire che sono decine di persone che moriranno e è procurato allarme questo. E questa vicenda è l'esempio di come su interventi anche così importanti ci si possa magari sbagliare più o meno volutamente, aggiungo io. Io intanto consentitemi un invito ai telespettatori. E' inquadrato il libro Tav Si, ricordo che è presente ormai una notevole saggistica se vogliamo di libri che propongono la tesi opposta, ricordo Ivan Cicconi ma sono molti altri e sono tutti fior fior di consulenti, docenti universitari, studiosi della materia. Sì, che danno supporto tecnico alle varie tesi. Ripeto, nessuno in questa vicenda... No, noi non l'abbiamo citato perché non ci è arrivato qua ma l'avremmo accolto volentieri. E non condivido neppure la faziosità con la quale viene affrontato questo problema. Io sono sempre stato visto in malo modo dal movimento, la parte più estrema forse del movimento Notav, in quanto ho sempre cercato di comprendere le ragioni degli uni e degli altri. Anche la preoccupazione delle infiltrazioni mafiose, anche alla luce dei dati di cronaca ultimi di questi giorni è impossibile pensare che laddove avvengano grandi opere, ci sono grandi affari, grandi giri d'affari, non ci possa essere quel rischio. Allora io chiedo all'uno e all'altro, sempre in ordine alfabetico d'Urbiano, la vostra preoccupazione rispetto a questa cosa o la soluzione rispetto a questo problema. Io osservo che tempo fa alcuni appartenenti al movimento Notav avevano scritto sulla roccia, su una montagna all'imbocco della Valle di Susa, una scritta Notav, no mafia. Un onorevole della Repubblica Italiana si era indignato e aveva chiesto la cancellazione della scritta no mafia. Io credo che si commenti da solo questa affermazione. Se qualcuno ha prestato attenzione alle notizie rispetto a quello che sta succedendo non in Calabria, in Sicilia o in Campania, in Lombardia, rispetto agli appalti pubblici e alle infiltrazioni ormai certificate, se vogliamo, dalla magistratura, credo che i militanti, la parte che si oppone a quest'opera abbia delle legittime ragioni nel temere queste infiltrazioni. Sostiene che è inevitabile pensare che possa accadere. Foglietta. Io avrei tolto sia Notav no mafia, perché le montagne stanno bene senza le scritte. Ma a parte quella battuta, io ritengo che tutto va gestito. Allora, io mi scandalizzo e non mi piace quando si dice che non bisogna fare delle opere una volta che uno Stato le ha decise perché c'è la mafia. Vuol dire che abdichiamo. Il vero problema è come affrontiamo e fare in modo che non ci sia più la mafia. Le normative sulle opere pubbliche sono ormai normative di carattere europeo. Bisogna rafforzare gli organismi di controllo. È già operativa la Commissione presso la Prefettura che sta esaminando il sistema dei subappalti. È fuori di dubbio che le possibilità di inserimento, soprattutto sui subappalti, perché poi alla fine la mafia arriva sui subappalti, non arriva in questo momento come general contractor, quindi sui pareri cosa è rilevante. Allora, su questo bisogna definire subito un protocollo con le amministrazioni locali, cosa che si sta già facendo in sede di osservatorio, perché quando parte l'appalto vero ci siano tutti i controlli che ricordo saranno di carattere europeo, perché su questo agirà la Corte dei Conti e il controllo europeo, francese e italiana. No, sono d'accordo che il progresso non possa essere fermato e che comunque il progresso comporta anche un apparato di controllo che preveda tutti i problemi. Però è oggettivo, questo non possiamo negarlo, che il problema delle infiltrazioni mafiosi negli appalti è stato difficile da gestire in assoluto perché ormai si è intrecciato con la politica. Capisco dire, capisco pensare che si possa e si debba creare un sistema di controllo, non è così automatico che funzioni. No, bisogna cercare di farlo. Olimpiadi 2006, poi può piacere o meno, il protocollo che è stato realizzato con le forze dell'ordine e con la profettura ha funzionato. Oggi dall'esame di tutti quegli atti è venuto fuori che non ci sono state in questo momento infiltrazioni mafiose né sugli appalti principali né sui subappalti che sono stati dichiarati. Poi non escludo che alla fine ci fosse uno di un'andrina che è andato a portare via una carriolata di cose. Non si può gestire l'individuo. Quindi in questo momento le esperienze di controllo dei lavori pubblici esistono. Io rivendico anche l'orgoglio sabaudo che c'è e di quant'altro. Io mi occupo in provincia di lavori pubblici e i principali lavori pubblici sono sempre stati gestiti da noi, ma posso dire fino adesso che il sistema dei controlli, il sistema delle gare, se applicato correttamente, fa in modo di fare dei filtri che sono assolutamente rilevanti. Osservo una battuta, osservo che ciò che sta accadendo in questi giorni in Lombardia non mi rassicura, ma non mi rassicura neanche il fatto che alla Maddalena sta lavorando un'associazione temporanea di imprese dove due imprese hanno regolarmente preso l'appalto e sono fallite. Il curatore fallimentare ha dato ai parenti di queste imprese l'incarico di proseguire i lavori. Questo è ciò che sta succedendo. Ricordo che queste imprese sono imprese balsusine che sono state ampiamente minacciate, a cui sono stati bruciati mezzi, in cui è stato dato fuoco un deposito con i mezzi che ci sono dentro e quindi questo apre anche una cosa, che i fallimenti sono figli di cattive gestioni, nessuno entra in genere di quello che può essere successo per le aziende locali, ma il clima che si sta respirando in questo momento nei confronti delle aziende, dei lavoratori che arrivano dalla valle è un clima che io giudico in un paese democratico inaccettabile.